Si tratta di un progetto, di un bando promosso dalle regioni Marche a cui è Lemuraglia partecipato assieme ad altri partner e l'obiettivo è quello di coinvolgere i soggetti più svantaggiati della comunità attraverso una rete di partner e di collaborazioni, compreso le istituzioni, per migliorare il benessere generale della collettività e anche delle famiglie in cui vivono queste persone. Il progetto si articola attraverso diverse attività, ogni partner è responsabile di alcune azioni, ci sono per esempio uno sportello di supporto psicologico, abbiamo corsi di ginnastica per disabili, abbiamo corsi di teatro, di ceramica, escursioni, camminate rivolte a tutte le fasce della popolazione, anche chi ha problemi di mobilità e disabilità, quindi cerchiamo di aprire a una gran parte della popolazione, soprattutto le persone in difficoltà, compresi i giovani perché coinvolgeremo il gruppo sportivo Muralia, i ragazzi della società che magari necessitano di sostegno psicologico per problemi legati anche allo studio, alle attività sportive, quindi ecco, questo è il nostro intento. Si è uscita una pagina Facebook dove ci saranno tutte le informazioni e il calendario delle attività, quindi sono numerose attività per cui abbiamo optato per questi canali un po' social, in modo tale che ci saranno tutti i riferimenti telefonici e indiristi mail e quant'altro.